bello ragazzi io sono ghisus e visto che ieri abbiamo fatto uscire un video sullo sboosting dalle mie 83 bustine di airstone di cavallieri del trono di ghiaccio dove abbiamo trovato ben 5 leggendari non male non male sono abbastanza contento oggi vi faccio vedere con un mazzo ideato da me altrimenti ci sono bellissimo con una cuffia giù una cuffia su altrimenti ci sono bellissimo da avere sulle cuffie non sto ascoltando niente quindi mi tolgo direttamente magari che faccia meglio che dite e oggi vi presento il mio mazzo contro dama soffia morte o lady whisper death allora la strategia di base che ci troviamo ad affrontare prima di tutto vi faccio vedere il deck così è molto più chiaro tra parentesi il deck lo trovate nel link in descrizione se vi serve su earthpool tra parentesi ho un account lì sopra non l'ho mai usato praticamente fino adesso lo usavo semplicemente per in keeper che è il software che vi permette di vedere le carte nel mazzo le carte che pescate le carte che vi riangono e il mazzo che ho fatto io si compone di carte molto base o perlomeno se giocate da un po airstone dovreste avercele praticamente tutte allora il punto forte della strategia è che per vincere ci serve di guarire al massimo il drago che abbiamo che è un 35 il problema è che ogni volta che è il turno dell'avversario la sua vita viene portata a 1 l'effetto del drago è che quando è guarito al massimo il drago può attaccare essere attaccato quando non è curato al massimo non può attaccare ma non può neanche essere attaccato quindi ci va molto bene una cosa abbiamo un 30 a 1 che per il momento è inutile tra virgolette quindi il punto forte del mazzo è ovviamente guarire il drago non guardiamo con cosa abbiamo dei circoli di guarigione le cure combinate le cure rapide la luce dei naru il nostro potere eroe cura a livello di magia poi invece abbiamo guaritore di ozen e alchimista di burgo scuro il guaritore di ozen ripristina sempre la salute al massimo di qualsiasi servitore invece alchimista di burgo scuro sono di fare curare se non sbaglio 5 il fatto è che il guaritore di ozen e alchimista di burgo scuro sono carte che hanno un costo decisamente alto 4 o 5 e noi vogliamo cercare di far fuori dama soffre morte prima del quarto quinto turno quindi per aiutarci si può anche tentare una strategia di un altro tipo cioè silenziare il nostro drago il problema è che silenziando il nostro drago ovviamente lui può attaccare anche quando non è curato al massimo ma può venire attaccato quindi verrà distrutto le carte per silenziare sono indubbiamente silenzio del sacerdote che costa 0 e ovviamente lo mettiamo in 2x e anche purificazione purificazione ci dà decisamente una mano inoltre ci fa pescare quindi è molto molto utile il problema successivo è affrontare tutte le provocazioni di dama soffia morte dama soffia morte tenterà di mettere giù sempre tanti minion sempre tante provocazioni quindi come facciamo a curarcene beh allora la prima cosa contro provocazioni è tentare ovviamente di silenziarle togliamo le purificazioni che possono essere usate solo sul nostro servitore usiamo il silenzio potrebbe essere l'idea oppure all'interno del mazzo visto che lei gioca provocazioni di solito che hanno poco attacco 2 o meno 3 o meno scusate possiamo usare parola dolore se invece gioca provocazioni con 5 più possiamo usare parola morte un altro aiuto nel caso ci vengano veramente lanciate addosso molte provocazioni e dissoluzioni di massa che come altro effetto positivo ci permette di pescare quindi non male all'interno del mazzo troviamo anche sinergia con un po di altre carte per esempio ho aggiunto un'epica visioni d'ombra perché ne avevo su 1x e penso che non stroppi tantissime quell'1x di visioni d'ombra invece più visioni d'ombra ho paura che andassero a togliere un po di sinergia al deck il mio lavoro qui ci può permettere di pescare un circolo di guarigione una cura combinata una cura rapida una luce di denaro un silenzio qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno ho aggiunto anche del forale del potere scudo che però non userei mai sul nostro drago 3 o 1 cioè 30 o 1 perché altrimenti ci complichiamo semplicemente la vita al posto che farlo diventare al posto che guarirlo con 4 abbiamo bisogno di 6 per guarirlo quindi è un costo decisamente troppo alto di cura a turno le parole del potere scudo invece però sono usate con la chirica della contea che ho aggiunto semplicemente per pescare durerà un turno durerà poco ma perlomeno ci permetterà di pescare quello che ci serve ultima cosa ciliegino sulla torta ovviamente visto che abbiamo parlato della possibilità che il nostro drago muoia quando viene silenziato aggiungiamo due risurrezioni che sono un po' randomiche vero ma ho aggiunto pochi servitori appunto per questo motivo e la nuova carta la nuova carta che purtroppo ho il nome semplicemente in inglese si chiama no servitù eterna si chiama dovrebbe chiamarsi così italiano un 2x che ci permette di rinvenire un minion amico quindi un vostro amico in questo caso il drago la chirica il conti borgo scuro o qualcos'altro se siamo sfortunati visto che ci sono solo 4 tipi di minion ci saranno solo 4 tipi di minion sul campo perlomeno e ci permette per l'appunto di rinvenire il drago rinvenendo il drago lui ritorna che è un 35 prossimo turno viene si riportato a uno salute però l'effetto gli viene restituito cioè che non può essere attaccato in questo caso non possiamo quindi cedere la partita anche silenziando il nostro drago e poi facendolo ritornare in vita ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel senso ho cercato di parlarvi molto velocemente del mazzo delle meccaniche che potrebbe avere questo mazzo se vi serve lo trovate in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video di Hearthstone quindi da ragazzi ozzi peggio di un ognomo con qualcuno è finito enti a creatura il mio stesso potere mi illuditi mentre preparo qualcosa che avvolgerà per sempre questo mondo nell'oscurità di Hearthstone Grazie a tutti.